In realtà il problema, se mi posso permettere, non è che non c'è il documento della regione Lazio e c'è il documento della regione Veneto che è stata la prima a farlo, è che il Ministero, rendendosi conto dell'estrema gravità del problema e della disparità di trattamento a livello nazionale, ha cercato di produrre un documento che è quello che ora io vi devo mostrare, che si chiama Appropriatezza Clinica Strutturale Operativa nella Prevenzione, Diagnosi e Terapia dei Disturbi di Alimentazione. Questo è il prodotto di un gruppo di persone molto competenti che hanno lavorato per tanto tempo raccogliendo i dati della letteratura, delle linee guida di altri paesi, la loro esperienza perché chi l'ha scritto sono tutti dei clinici ed è venuto fuori questo, che ha il grosso pregio di essere consultabile da qualunque cittadino italiano perché è tutto online ed è tutto gratis. E un altro aspetto molto importante che mette in crisi chi cura queste persone è che c'è un notevole allargamento della forbice delle età coinvolte. Diceva prima la collega ci sono casi molto precoci ma è altrettanto sorprendente per certi versi ci siano casi sempre più tardivi, c'è donne di 60 anni che vi garantisco sono anoressiche al 100%, proprio come modo di pensare. Quindi di fronte a una tale complessità ogni semplificazione non ha alcun senso e il modello patogenetico ad oggi ritenuto più accettabile, più vicino alla realtà, più vicino a quello che dicono le pazienti, che è quello che ci deve interessare è quello cognitivo comportamentale che vede alla base del problema ovviamente un disturbo profondo della stima di sé. Questo ha dei riflessi molto importanti su tutto quello che vuole essere preventivo. è oramai dimostrato che andare nelle scuole parlando di cos'è un disturbo alimentare avrà come risultato finale che dopo due anni in quella scuola ci sarà un aumento delle pazienti affetti ai disturbi alimentari, quindi non previeni nulla, favorisci. Se te vuoi fare un intervento preventivo, e beato chi lo sa fare, lo devi fare sull'autostima. Ma come fai a migliorare l'autostima di centinaia di migliaia di adolescenti? Onestamente non lo so, però bisogna dire le cose un pochino come sta. Ecco, molta gente secondo me va nelle scuole per farsi pubblicità, non per prevenire. Al tempo stesso, senza conoscere bene le condizioni mediche di queste persone, si rischia di fare dei disastri, che purtroppo vengono tuttora fatti, a mio parere curare queste ragazze fuori da una struttura, non dico pubblica, ma dove ci sia l'internista con lo psichiatra è una follia, ci si assumono delle responsabilità paurose, conta molto l'aspetto del rapporto terapeutico. Noi senza un rapporto terapeutico non arriviamo da nessuna parte con queste persone. E il documento del Ministero lo sottolinea molto bene, così come sottolinea molto bene che pensare di curare queste ragazze e quei farmaci e basta, è ridicolo, cioè non sta in piedi, non si è mai visto, almeno io non l'ho mai vista, una bulimica guarire con 60 mg di fluoxetina, cioè è falso, non è vero, cioè sono balle. I farmaci servono per la comorbidità, non servono per curare la patologia. Vengono rialimentate male, vengono rialimentate troppo rapidamente, vengono rialimentate in modo sbilanciato, cioè è più facile che sia un medico a ammazzare l'anoressica, piuttosto che l'anoressica che muore per conto suo. Questo è un dato forte, che va detto. Cioè la gente muore perché noi si sbaglia, non perché si muore di fame. È rarissima che un'anoressica muoia di fame, è rarissima. Quindi siamo noi che sbagliamo, ma sbagliamo pesantemente. Questa è una cosa grave, assolutamente grave. E ripeto, nel documento del Ministero che vi invito caldamente a leggere, è spiegato come si fa a evitare una refeeding syndrome. Non puoi dare a una bambina che pesa 30 chili, che ha 11 d'indice di massa corporea, 1800 calorie di colpo. Perché l'ammazzi a far così. Infatti muoiono se si fa così. Il discorso della famiglia è un discorso ovviamente centrale, soprattutto per le minorenni, ma non solo. Anche qui bisogna saperlo fare, anche qui non si deve essere superficiali. Di sicuro è dimostrato che un intervento psicoeducativo, cioè dire che cosa ha tua figlia, cos'è un'anoressia, che cos'è una bulimia, cosa fare e cosa non fare, è molto importante. Molto importante. Perché la gente ha pregiudizi. I genitori delle nostre ragazze sono devastati dalla colpa. La colpa fa rima con ignoranza. Perché non sanno cosa fare e cosa non fare. Cosa andava fatto e cosa non andava fatto. Quindi informare, educare, è estremamente importante nel processo terapeutico. Sottolineerei, come è scritto nel documento, che è fondamentale coinvolgere il medico di base. Il medico di base spesso non sa niente, spesso non l'ha neanche vista. Sa che esiste dall'elenco, perché ci prende i soldi, ma non sa altro. Ed è fondamentale. Noi dobbiamo avere un contatto continuo con questa gente. Più la rete è estesa, più il sistema funziona. Siamo ancora scarsi come formazione su questo argomento. Ci sono un sacco di pregiudizi, prese di posizione più o meno strumentali per interessi di bottega, perché poi ci gira un sacco di soldi su questa storia. Questi sono i concetti forti, ma vi lascio l'indirizzo. Quindi www.quadernidellasalute.it Bellissimo documento, lo posso dire perché non l'ho fatto io. È bellissimo, è chiaro, è aggiornato, mi permetto di dire, è intelligente. E soprattutto è utile. Vi ringrazio. Quello che conta è non dirlo soltanto con le parole, ma metterlo in atto nei fatti. Cioè non accontentarsi della guarigione cosiddetta apparente, perché è la fonte principale non solo della ricaduta, ma anche delle cronicizzazioni. Il rischio molto serio, diciamo che riguarda il disturbo alimentare, oggi non è più tanto la mortalità, anche se è ancora molto alta. E ricordiamo che è la prima causa di morte delle giovani donne, all'oressia, bulimia da sole, già basterebbero. In più ci sono gli altri disturbi che aggravano ulteriormente la situazione. Tuttavia, diciamo, il pericolo maggiore in termini percentuali sono soprattutto il rischio della cronicità e anche della durata lifetime, perché ormai abbiamo avuto tempo d'osservazione abbastanza ampio per concludere che in molti casi, non posso dire la maggioranza, ma ci avviciniamo molto a questi e questi numeri, finiscono per durare tutta la vita. Il primo problema che riguarda la base dell'iceberg è quello che noi vediamo, quando parliamo di disturbi alimentari, parliamo appunto di alcuni sintomi ben codificati e ben precisati. Purtroppo i nostri strumenti di valutazione hanno grosse difficoltà, perché in realtà le classificazioni prevedono soltanto determinati sintomi che hanno a che fare con l'alimentazione. In altri termini, il peso, il comportamento rispetto al peso, le abbuffate, il vomito e pochissimi altri comportamenti che in realtà sono soltanto la superficie. Se in realtà si limitasse soltanto a questo, il problema dell'oressia e della bulimia sarebbe già risolto da un gran pezzo. Purtroppo, oltre a quello, abbiamo un numero infinito di altre cose. La comorbidità in primo luogo. Sappiamo, dati sicuri questi, che ci avviciniamo all'80% delle comorbidità. Cioè, esiste trovare un disturbo alimentare puro che non abbia comorbidità, è una rarità, è un'eccezione. E probabilmente la stima dell'80% è anche sottovalutata, perché nella maggior parte dei casi, se andiamo a guardare bene, se facciamo un'analisi approfondita, anche quello che appare soltanto strettamente legato all'alimentazione, in realtà comporta spesso altre ricadute in altri tipi di patologie. Le comorbidità costituiscono, ovviamente, un problema enorme. Intanto le abbiamo suddivise in tre grandi gruppi, perché abbiamo visto che c'è una certa tendenza a categorizzarsi in queste tre modalità che corrispondono anche a periodi di ricorso differenti. Cioè, in differenti momenti della malattia, prevale l'uno o l'altro. Una delle caratteristiche di questa patologia è anche un'estrema variabilità. La stessa persona che prima era particolarmente precisa, meticolosa, si parla di perfezionismo, uno degli elementi, uno dei parametri fondamentali che contraddistinguono molte delle nostre anoressiche, le stesse ragazze che prima erano perfezioniste possono diventare, a distanza di tempo, molto caotiche, molto disorganizzate, molto confuse, molto incapaci di organizzare la loro vita, incapaci di controllare tutti gli aspetti impulsivi che le caratterizzano. Infatti, la fase che riguarda l'ossessiva e compulsiva, il comportamento ossessivo e compulsivo, è soprattutto la fase precoce. È molto più raro che questo si presenti in una fase avanzata. Si procede poi verso la fase del discontrollo degli impulsi. Qui vediamo anche che cosa contengono queste varie fasi, con tutte le varie dimensioni che vanno prese in considerazione, perché non pensiate che queste siano semplicemente comorbidità. Possono essere parte, vere, proprio parte della malattia e sono tratti che vanno comunque considerati, perché spesso sono quelle che poi fanno precipitare le ricadute e quindi la non eliminazione di queste problematiche ci porta spesso a dover rifare tutto quanto da capo. Non è raro che ti sembra di essere arrivato in cima alla montagna e scivoli dall'altra parte con questo tipo di pazienti, semplicemente perché si sono trascurati dei dati che apparentemente non c'entrerebbero nulla, perché vogliamo dire la polarizzazione sul cibo, i rituali sul cibo, ovviamente, sicuramente sì, ma il bisogno di tenere il controllo sull'ambiente circostante per quale ragione dovrebbe riguardare un problema alimentare. Assolutamente non dovrebbe avere nulla a che fare, eppure è uno dei problemi più grossi che ci troviamo di fronte e che poi si trasforma poco dopo nel problema opposto, perché chi ha controllato in maniera esagerata a un certo punto, come potrebbe essere uno che è di guardia notte e giorno per diversi giorni di seguito, comincia a perdere il controllo, non ce la fa più e questa è funzione sia del disturbo ma anche dell'età, che man mano che procede dà meno capacità di controllo di quanto avvenisse precedentemente. L'impulsività è un problema nel problema del quale non si parla e sembra quasi che non esista il disturbo alimentare. In realtà è il problema più grave, lo sottolineo perché dobbiamo farci conti tutti i giorni, quando parliamo di suicidio, parliamo nella maggior parte dei casi di suicidi impulsivi, perché queste ragazze, questi ragazzi anche, che hanno questo tratto, quello dell'impulsività, che sono quelli che prima avevano un buon controllo e poi lo hanno perso, in certe circostanze, avendo perso questo controllo, hanno la sensazione di non avere più la capacità di avere un rapporto con il resto del mondo adeguato e non lo possono avere perché non hanno più controllo. È come avere a disposizione una Ferrari ma non avere i freni e questo significa che nessuno ha voglia di salirci sopra. Ci sono alcune persone, le anoressiche e gli anoressici e le bulimiche e i bulimici, di solito hanno un partner, ma che tipo di partner? Anche questa è un'altra cosa interessante da vedere. O si tratta di uno schiavo, ma possono essere esattamente anche il contrario, cioè possono essere loro a essere schiavizzate, loro a essere tormentate, a volte torturate. Ora queste umiliazioni a cui queste donne sottopongono fanno appunto il contrappeso a quelle altre situazioni in cui invece esiste esattamente il contrario. Questo ci fa pensare qualche cosa e per noi da qui è nata una teoria che ritengo valida, avendo visto che è così in molti casi, che è quella di una bipolarità, non nel senso dell'umore, ma di una bipolarità tra dimensioni opposte, per cui un po' tutto va in direzioni estreme, da una situazione all'altra, che può essere per esempio in nascondere il proprio corpo, come sono benissimo capaci di fare cappotti, cappottoni, maglioni e cose del genere, o esattamente il contrario, denudarsi fino ad apparire sui cartelloni e orgogliose di apparire in quelle condizioni, perché questo è la incapacità di avere via di mezzo e oscillare soltanto tra estremi. Quando l'impulsività ha raggiunto il suo limite massimo, noi come premio massimo riusciamo ad avere alla fine la depressione, perché in realtà i soggetti binge eaters, che sono quelli che già hanno una certa età, è difficile trovare un binge eater giovanissimo, esistono anche questi, per carità, e non voglio darvi assoluti, perché non ce ne sono in questo campo, ma la verità è che pian piano, man mano che si perde il controllo, si va verso l'area depressiva, perché la perdita di controllo produce da una parte l'aumento del peso, ma per quello che ci riguarda più strettamente, per quello che riguarda il paziente più strettamente, la depressione è una depressione grave, depressione con rischio suicidario molto alto. Nessuno ne parla di questo, ma le statistiche dei binge eaters sono superiori all'anoressia bulimia messe insieme, cioè noi parliamo di un fenomeno che non si vede, perché è gente che non esce di casa, perché è un po' triste, ma è anche poco presentabile, o si ritene poco presentabile, e proprio per questo, questi qui sono più degli altri, insomma siamo al di sopra del 6%, non parliamo di statistiche di poco conto, molto rilevanti, ma poco considerate. Nelle fasi che riguardano l'anoressia restrittiva e l'anoressia con un po' di binge eating, in realtà il controllo ancora in parte c'è, poi però passiamo in situazioni in cui si comincia a perdere, e alla fine il binge eating disorder, il controllo non esiste più, quindi questo è un problema che apparentemente nel DSM non esiste, non viene preso in considerazione, ma in realtà è il problema di tutti i disturbi alimentari dall'inizio alla fine, e perché nessuno abbia mai pensato di includere questo, è un mistero che vi posso dire, non siamo riusciti a trovarne le ragioni. Qualcuno però ha parlato giustamente di modello trasnosografico, per cui si passa da una patologia all'altra, non si può più pensare a delle patologie a comportamenti stagni, vedete qui delle frecce che vanno prevalentemente in una direzione piuttosto che in un'altra, è molto più difficile che un binge eating diventi un'anoressica, piuttosto che del contrario, e questo fra l'altro da un punto di vista della collaborazione. Io, ve lo ricordo, sono un clinico e soprattutto ho a che fare sul come lavorare con queste pazienti e per me il primo quesito è come faccio a ottenere la loro collaborazione se si devono ricoverare. Noi abbiamo una struttura di ricovero, una delle poche, pubbliche, 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 in cui il paziente entra, ovviamente ha portato i suoi familiari che dicono prendetelo e curatelo voi, quello dice io non ci voglio stare, quindi vi trovate di fronte a questa, ci troviamo di fronte a questa situazione di una che ha bisogno sicuramente di cura e lo vede chiunque, ma che però dice di no. Bene, una delle cose è il modello trasnosografico ci aiuta perché io dico, guarda, mi preoccupa relativamente poco il tuo problema alimentare di oggi e mi preoccupa poco che sei magra, quello che mi preoccupa di più è quello che può succedere domani. Dice, ma lei dice che io muoio? Dico, no, non è solo questo, il peggio non è quello. a loro non gli interessa tanto se muoiono o no, insomma non è un problema che le riguarda almeno in questa fase. Quando uno gli dice qual è il vero problema allora cominciano ad essere più accomodanti. Il vero problema è la bulimia, è in agguato per le persone che restringono. Noi sappiamo oggi con certezza che più si restringe più il rischio di bulimia aumenta. Questo è un dato che le anoressiche devono sapere perché una volta che lo sanno la loro collaborazione aumenta, non lo vogliono. Se c'è una cosa che non desiderano sulla terra è di diventare bulimiche, di perdere il controllo che in quel momento hanno e cercano di mantenere aggrappandosi con le unghie e con i denti. Allora per noi è molto importante in questo momento fargli capire, ed è la verità, non è un inganno, non è una strategia, che se perdono il controllo, cosa che succederà fra poco perché sono di solito esageratamente ipercontrollanti, se perdono il controllo a quel punto recuperarlo sarà molto difficile e sicuramente questa è una cosa che non gli fa piacere. E da lì nasce la collaborazione perché capiscono che c'è una dimensione peggiore nella quale non vogliono andare e che saranno aiutati non a diventare ragazze di un certo peso, ma ragazze che hanno un buon controllo nella loro realtà. La tematica della colpa inizia dal primo momento in cui una ragazza ancora non è diventata anoressica fino all'ultimo momento del binge eater. Cioè questa tematica accompagna per sempre questo tema eppure questo non esiste e quando noi parliamo di guarigione se ci teniamo questa situazione qua che uno si sente colpevole anche senza aver commesso colpe anzi spesso sono le colpe degli altri che pesano sul soggetto che si accusa di essere colpevole se noi pensiamo questo alla fine la guarigione ce la possiamo scordare. Ecco qui intanto si è detto che ci sono genericamente dei problemi di comunicazione all'interno della famiglia non sono affatto generici oggi li conosciamo abbastanza bene e sono anche presenti prima e sono presenti dopo quindi è importante lavorare anche su questo cioè il volume verbale cioè non sono famiglie che parlano poco ma parlano tanto tantissimo il volume verbale è il volume più alto non nel senso di anche quello ma è il volume più alto in senso di parole dette nell'unità di tempo rispetto a tutti gli altri tipi di famiglie quindi una grande capacità verbale anche molto eloquente e poi andate a vedere questa eloquenza non significa aver detto molte cose cioè somiglia al linguaggio di certi politici che parlano per ore però poi vai a stringere e anche devo dirlo perché non mi sembra giusto trascurare questo fatto anche di alcuni professori universitari che spesso vengono in qualche modo dicendo vieni a fare la conferenza perché si sa che tanto la prima mezz'ora viene occupata da quello che insomma non dirà un granché però lo dice in maniera elegante questa capacità è straordinaria perché la dotazione linguistica nell'anoressia e nella bulimia è eccellente quindi fanno anche buone carriere da questo punto di vista molte di loro si lanciano in vari lavori tra cui prevalgono la psicologia e l'essere avvocati lavorare con questi pazienti non è facile sapete perché non si riesce a fare una rete perché questi pazienti separano non sono pazienti che uniscono sono pazienti che dimostrano l'incapacità delle persone di lavorare insieme e quindi l'equipe comincia a litigare lo splitting fenomeno per cui uno va in una direzione o in un'altra è proprio la regola poi bisogna lavorare sulla motivazione del cambiamento la detenzione del progetto i comportamenti anomali questo sembra una stupidaggine ma in realtà io pregherei di mettere anche questo elemento tra gli aspetti che vanno valutati per la prevenzione perché questa forse è l'unica parte che ha a che fare col cibo dal punto di vista della prevenzione prima di diventare anoressico non è a parte la dieta che insomma è una banalità o le modelle che sono un'altra banalità in realtà le persone cominciano a mangiare già come se fosse non la quantità ma il modo di mangiare è particolare possiamo vedere se uno spezzetta il cibo in maniera esagerata ma anche se mantiene una distanza dal piatto di questo tipo è già un'indicazione ovviamente di tipo anoressico mentre la bulimica ci sta con la faccia sopra dopo se resta solo l'impulsività io non mi tento tranquillo magari una guerra della ragazza è guarita dal punto di vista alimentare però si suicida perché l'impulsività porta al suicidio e a fare anche autolesionismo e cose di vari genere poi ci sono anche altre tematiche di colpa benedeguatezza autostima eccetera eccetera e poi alla fine ci avviciniamo ai problemi più grossi che sono la lexitimia incapacità a esprimere le proprie emozioni voi pensate che un problema alimentare si possa risolvere se la famiglia e la paziente non è in grado di esprimere le proprie emozioni adeguatamente io vi dico sinceramente la lexitimia il tasso più alto prima si pensava che fosse nella malattia psicosomatica adesso sappiamo con certezza che è nell'anoressia e nella bulimia quindi questa è la radice fondamentale della lexitimia questo tipo di disturbo allora non lavorare su questo e lavorare sulle dimensioni del corpo o su quanto la persona pesa è soltanto guardare alla punta dell'iceberg e ignorare il resto come è stato detto come le linee guida ci dicono come la dottoressa Coclite ha sottolineato è necessaria una come dire specializzazione dedicata e dei servizi dedicati al trattamento dei DCA non si può improvvisare per cui questo che significa significa che noi dobbiamo come diciamo così esperti del settore indicare ai nostri politici che sono necessarie strutture di ricovero forse ne bastano una o due per regione dedicate al trattamento per acuzie nei disturbi del comportamento alimentare dove l'acuzie è legata a un grave deperimento organico con un rischio di morte associato a un grave malfunzionamento psicologico psicopatologico che precede il deperimento organico e ne è alimentato io lavoro al bambino Gesù e quindi ci occupiamo di una fascia d'età che è molto più bassa è stato detto nelle relazioni del mattino che è un dato piuttosto preoccupante il fatto che l'età di esordio e di subito il comportamento alimentare in effetti si stia sempre più abbassando e noi vediamo effettivamente anche esordio ma quando parlo di anoressia parlo proprio di un'anoressia classica con tutta la sintomatologia centrata sulla dispercezione del corpo la volontà di dimagrire ad ogni costo vedersi grassi anche quando si è in evidente sottopeso ecco noi riusciamo a vedere queste forme classiche anche su bambine di otto anni quando noi diciamo il trattamento elettivo è determinato da un'equipe multidisciplinare integrata verosimilmente pensiamo ed è vero alla necessità che delle diverse figure professionali collaborino tra loro e che quindi avvenga l'integrazione dell'informazione cioè si mettono lì discutono insieme del paziente costruiscono un progetto condividono obiettivi e metodologie fin tanto che questi diversi ambiti di cura appartengono alla stessa azienda e io sono molto fortunata in questo senso perché posso seguire i ragazzi in ambulatorio in dei hospital in ricovero ovviamente quando la situazione lo richiede sempre all'interno della stessa struttura e quindi mi conoscono condividiamo ovviamente obiettivi e metodologie perché apparteniamo alla stessa famiglia però questo non è così scontato per tutte quante le altre realtà dove invece gli ambiti di cura sono sezionati sicuramente il servizio materno infantile è meno preparato rispetto alla psichiatria degli adulti la neuropsichiatria infantile per quella che è la mia sensazione ha veramente meno risorse umane proprio anche per far fronte non solamente ai disturbi del comportamento alimentare ma proprio a tutte le patologie complesse e poi perché ancor più mancano manca la possibilità per la neuropsichiatria infantile di integrare la parte più medica cioè che si occupa della della parte che fa più paura poi nell'ambito di questo tipo di problematica alla fine cosa succede che gli interventi diventano degli interventi selettivi lo psicoterapeuta fa la sua parte il nutrizionista fa la sua parte il neuropsichiatra infantile molto probabilmente che deve monitorare i farmaci fa la sua parte ma manca quel concetto di integrazione e allora veramente e finisco volevo sottolineare che forse l'integrazione è un qualcosa che deve precedere persino la costituzione dell'equip nel senso che l'equip che si andrà poi a costituire deve già aver integrato dentro di sé per formazione professionale quelle che un po' sono le competenze dello psicologo quelle che un po' sono le competenze del dietista quelle che un po' sono le competenze di perché perché cambia il modo con cui si approccia al sintomo pur facendo la propria parte e questo ad oggi purtroppo purtroppo manca quello che stiamo dicendo è che c'è una grossa fatica innanzitutto ad integrare le diverse aree all'interno della mente del clinico all'interno della mente dell'equip e all'interno del sistema territorio perché poi alla fine si creano delle situazioni in cui non circola più nessun tipo di sinergia insomma delle sacche di impotenza e di arresto magari di qualcosa di importante che è partito sul piano del clinico gli aspetti che sono stati evidenziati sono aspetti problematici con i quali ci confrontiamo anche noi vale a dire la costruzione di una rete noi come associazione siamo nati per coprire un vuoto perché effettivamente c'era un vero e proprio vuoto relativamente alle liste d'attesa di tre o quattro mesi relativamente a delle difficoltà concrete che dovevano spingere i familiari in particolare perché la nostra associazione raccoglie in termini associativi i familiari stessi spingere queste pazienti ad andare fuori regione e poi a dover ritornare noi ci siamo confrontati da due anni a questa parte con delle difficoltà concrete di costruire una rete nel momento del ritorno di queste pazienti con gravissime difficoltà perché certo essere ricoverati faccio riferimento ad una struttura importante in nord Italia Villa Miralago essere ricoverati per sei mesi non significa aver concluso significa poi ritornare e ad un certo punto il servizio territoriale che ha inviato quindi noi che collaboriamo in termini di protocollo di intesa ci confrontiamo con queste difficoltà però poi ci dobbiamo necessariamente riconfrontare con con le recidive delle problematiche concrete e appunto io insisterei ancora sulla necessità di creare una rete che vada a coinvolgere concretamente tutti i professionisti che a più livelli riguardano la dimensione sanitaria cominciamo ad avere richieste da parte di bambini cosa che negli anni passati non c'era mai successo ora mi sono domandata siamo tenuti a individuare quelli che sono gli stati mentali a rischio per i disturbi del comportamento alimentare dobbiamo assolutamente fare questo sforzo di individuarli e di lavorarci perché in questo campo la prevenzione è importante tanto quanto lo è nella prevenzione degli esordi psicotici un'altra criticità che rientra nel concetto proprio di trattamento integrato e mi sembra che qui sia un po' venuto fuori è quello chi è il case manager del paziente col DCA e mi pare che da quello che è emerso oggi è lo psichiatra il case manager perché il core diciamo il nucleo di questa patologia è psichiatrico quindi mi sembra che avere questa chiarezza di impostazione è importante è molto importante senza minimamente toccare mettere in dubbio la necessità di questa integrazione questa non ne vogliamo neanche più parlare questa mattina quando io ricordavo da dove ripartire e lo ricordavo al consigliere regionale presente era un'esortazione ma sono stanca degli inviti cortesi a fare allora prendo un suggerimento che parte da lontano Basaglia l'anno prima di morire ha fatto un ciclo di conferenze nel Sud America le famose conferenze brasiliane apriva sempre gli incontri con gli operatori dicendo noi questa sera ci riuniamo ma dobbiamo sapere che i contenuti che ci scambieremo debbono servire per andare oltre il nostro incontrarci qui stasera perché dobbiamo produrre qualcosa che dia senso all'esserci ritrovati qui allora è quasi sera ma noi siamo qui da questa mattina alle nove e da dove ripartire mi sono permessa nell'intervallo di dire a Francesca d'Ecclesia e all'Ara Banchieri che fanno di fatto le funzioni della segreteria scientifica che da questa giornata deve ripartire con forza una richiesta che non è più un invito una carineria o un'esortazione allora la prima richiesta che su carta intestata dell'UoC di psichiatria dell'azienda ospedaliera Sant'Andrea facoltà di medicina e psicologia la sapienza parta all'indirizzo del presidente della regione commissario ad acta e per conoscenza al presidente della commissione politiche sociali e salute del consiglio regionale e al direttore regionale e al dirigente dell'ufficio area soggetti deboli e alla consulta regionale la richiesta che vengano sanati immediatamente vengano sanate le inadempienze che ci siamo ripetuti costantemente oggi siamo inadempienti su procedure protocolli e linee guida e attivazione di servizi siamo in una regione dove lo spontaneismo dove l'arbitrarietà e dove l'ho detto anche stamattina gli appoggi opachi ma potrei dire tranquillamente clientelari hanno permesso che si aprissero qua e là servizi che sono nati in modo spurio e continuano a lavorare tra mille difficoltà e non trovano la messa a sistema delle risposte di salute che dovrebbero dare per le conoscenze che ho io credo che i servizi per i DCA debbano stare all'interno di un dipartimento di salute mentale che inglobi anche l'area della tutela salute mentale età evolutiva e l'area delle dipendenze patologiche perché dobbiamo continuare a assistere al turismo sanitario delle famiglie e allo sradicamento dei pazienti per sei mesi come ricordava lei lontano da Roma al di là dello sradicamento degli affetti e delle attività della quotidianità del paziente ma vi siete posti il problema che cosa significhi tanto più in tempi di crisi economica per una famiglia avere un proprio figlio o una propria figlia ricoverati fuori dalla regione Lazio oltre agli investimenti personali emotivi ma pensate agli investimenti economici quanti sono le famiglie che possono continuare a tenere il legame della quotidianità ma che dico della settimanalità andando in giro nelle regioni dell'Italia del centro nord allora io ricordo a tutti che da oltre quattro anni è iniziato il percorso di riconversione degli ottocento posti delle dodici cliniche psichiatriche private accreditate del Lazio perché non chiedere allora che questi ottocento posti indistinti di residenzialità vengano per una volta tanto ripartiti per classificazioni diagnostiche perché all'interno degli ottocento posti di residenzialità indifferenziata non si stabilisca un fabbisogno di posti di residenzialità esclusivamente per i disturbi della condotta alimentare avremo finalmente una riduzione degli oneri economici e questo sollettica molto chi in regione è preoccupato solo di far quadrare i conti perché la DRG che si dà alle comunità del Lazio è molto più bassa di quella che viene richiesta dalle strutture residenziali delle altre regioni permetteremmo la continuità dei rapporti con il territorio inviante ed eviteremmo di aggiungere altro stress al dolore e alla sofferenza che le famiglie e i pazienti già subiscono però mi aspetto che le società scelifiche le iniziative come quella di oggi e l'associazionismo dei cittadini ricordino ai politici che li abbiamo eletti perché diano direttive riprendano in mano il governo dell'assistenza sanitaria nella nostra regione un'assistenza sanitaria che sia degna e che non lasci indietro quei pazienti le cui problematiche non destano l'interesse dell'opinione pubblica non sono gettonabili non hanno appeal per noi l'appeal ce l'hanno e io questa mattina quando ho salutato il papà di Giulia ho detto che il nostro impegno deve continuare per le tante Giulie che si sono perse per strada e per quelle che forse per la nostra insipienza per le nostre lotte correranno il rischio di perdersi ancora grazie